In seguimento con il quad davanti al pendet Con la botte a 200 vittagli No, sì, 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 sì Beh, no, beh, sei pure là Oggi che mi chiede cassa il testo Non che se sperasse che il visita io Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let's go guys Raventi bene a me, a me said schreiben I'm rating